L'ultima indagine annuale di FederConsumatori sulla tasse sui rifiuti, la famosa Tari, relativa ai capoluoghi di provincia, mette nero su bianco tutti i paradossi del sistema regionale dei rifiuti. A fronte di tariffe altissime, il servizio regato è costantemente al confine con la crisi. In tutta l'isola la tasse sui rifiuti è cresciuta in media del 23% rispetto al 2010. La Tari non è affatto omogenea nelle diverse zone della regione. Ad Agrigento si pagano in media 385 euro, di più che a Caltanissetta, Trapani o a Palermo, e leggermente meno che a Messina, Catania o Siracusa, dove si arriva a ben 502 euro. Se usciamo dalla Sicilia e andiamo alla media nazionale, sempre per abitazioni standard da 100 metri quadrati, è subito evidente che i siciliani pagano molto di più che nel resto delle altre regioni italiane. La media in Italia infatti pari a 296 euro, cioè 85 euro in meno rispetto alla media siciliana e sono soldi. Sono dati che parlano chiaro, anzi chiarissimo, commenta il presidente di Feder Consumatori Sicilia, Alfio Larosa. È evidente che molti comuni, per fronte ai tagli e ai trasferimenti pubblici che da anni hanno ridotto i propri bilanci, abbiano trovato nell'Atari un modo facile per recuperare i denari mancati all'appello e i cittadini pagano. In queste settimane, ricorda Larosa, Palermo è in preparazione la nuova legge regionale sui rifiuti, che si spera danno ruolo centrale all'Associazione dei consumatori, promuovendone la partecipazione e il controllo della qualità dei servizi. Feder Consumatori però non dimentica che mentre si discute della nuova legge sui rifiuti, quella attualmente in vigore in Sicilia, è ampiamente inapplicata. Per l'Associazione bisogna scrivere e applicare in fretta una legge regionale ispirata, come chiede l'Unione Europea, ai criteri dell'economia circolare, cioè favorire la produzione e il consumo di prodotti a basso impatto ambientale, il cui processo produttivo porti alla creazione della minor quantità possibile di rifiuti. Una volta raggiunto questo obiettivo, infatti la quantità di rifiuti prodotti e i costi che i cittadini dovranno pagare per smaltirli verranno nettamente abbattuti. Naturalmente bisogna anche incrementare la raccolta differenziata, così come si sta cercando di fare aumentando le zone in cui si effettua il porta a porta. Prima di tutto va cambiata la mentalità dei siciliani ed entrare nella forma mentis che dividere i rifiuti per categoria inciderà sulla Tari. Ricordiamo oltretutto che quelle che i cittadini hanno da poco ricevuto nella cassetta delle lettere non è l'importo intero della tasse sui rifiuti, ma soltanto un acconto. Dobbiamo ancora renderci conto dell'importo finale.